Sarà attivato dal 10 al 22 e dal 17 al 29 settembre il trasporto gratuito per il raggiungimento dell'hotel Rosapepe di Contursi Terme, che ospiterà i cittadini del comprensorio intenzionati a beneficiare delle cure termali. Per poter usufruire del bus che collegherà il comune di Ponte Cagnano-Faiano alla struttura convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale, gli interessati potranno rivolgersi agli uffici di Villa Crudele dal 29 agosto al 4 settembre, dalle 9.30 alle 12 e dalle 16 alle 18.